degli assistenti, consapevole che l'abbraccio festoso che questa piazza le riserva è la manifestazione più efficace dei sentimenti di gratitudine e di affetto di tutti. Grazie Santità per avermi chiamato a servire anche questa famiglia grande e bella, come amava definire l'azione cattolica italiana con delicata fierezza. Sua Eccellenza Monsignor Manzueto Bianchi